Non riescono a fare pure noi. Aspetta un secondo, poi ritrovo che vi dà... Ho litigato a fare voi, ho litigato a fare voi. Abbiamo condiviso. Se stai, se stai... Poi inizi a fare uno scuso di una delegazione e poi esci. Però sì... Allora adesso entriamo, capiamo come la situazione è dentro, chiediamo di far entrare anche gli altri compagni amici, visto che siamo nel PD e poi capiamo, nel senso che se non li fanno entrare capiamo se rimanere usciamo. Possiamo uscire, possiamo capire se l'altra parte è d'accordo che rimaniamo dentro o meno, se non usciamo. E boh, punto, e andiamo ad ascoltare. Speriamo insomma che ci facciano entrare tutti. Siamo il PD e quindi... Anche perché gli allatati sono tanti più di noi. Perché devono vedere... Adesso, tanto tutti siamo tesserati, siamo tutti tesserati, siamo pure amministratori, ci sono assessori, ci sono sindaci, ci sono cose... Ci sono tutti. Ma siete da tutta Italia, avete fatto un gruppo interregionale. Sì, 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 abbiamo... Ah, mi hanno preso il foglio, però abbiamo la delegazione... Campania, Marche, Piemonte, Piemonte, Lazio... Ma se vi facessero parlare che cosa dite? L'abbiamo scritto noi. Eh, ho capito, ce lo dite? Sono le quattro cose. Reset della dirigenza, congresso aperto, più inclusività rispetto ai circoli e più carezza sulla azione di governo... Governo di scopo, via. Più? Più chiarezza. Chiarezza di quelli che sono i tempi e di quelli che sono i temi da affrontare. Soprattutto riprendere anche un'identità, che è fondamentale. È l'ideale. È l'ideale. È l'ideale. Perché il profitto non è l'ideale. Grazie. Mi dite per avere l'ideale, pochi, chiari, precisi. Questo è quello che abbiamo... No, siamo di sinistra. È bisogno di contatto perché sono scordati. È il documento che abbiamo condiviso in tutta Italia. Quindi questo è quello che noi diremo. Se ci fanno parlare leggiamo questo documento semplicemente. No, 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 no.